Cosa fa e pensa il tuo cane quando viene lasciato a casa da solo? Ma che divani di merda! Giusto, ottimo inizio! Qua contro soffittamo! La faccio la new space! Molto bello, Marta! Ah, commentatore, ingegnere, come andiamo? Ah, sì, 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 va bene, ci vediamo poi a Formentera! Ciao, ciao, scusa, stanno arrivando! Grazie.